Il Neocurier che presentiamo oggi è l'ultimo membro della famiglia Turneo, che è una famiglia che abbiamo voluto, pensato e realizzato per rispondere alle esigenze delle famiglie moderne, che sono sempre più alla ricerca di mezzi che possano in qualche maniera coniugare al meglio le loro esigenze per il tempo libero con le esigenze anche lavorative. Il Turneo Curier è il più piccolino della famiglia, nasce sulla piattaforma B, quindi quella della Fiesta e della B-Max e quindi si ripropone di rispondere a quelle esigenze di famiglie che ne fanno un uso anche cittadino, oltre che extra cittadino per quanto riguarda il tempo libero. Lo lanceremo adesso nel mese di giugno, è una famiglia che noi definiamo Smart perché ovviamente coniuga questa grande flessibilità in termini di spazio, in termini di versatilità, in termini anche di vani per riporre gli oggetti all'interno, quindi tutto quello che ne fa un mezzo pratico per famiglie pratiche moderne e però ovviamente Smart anche perché porta con sé tutte le tecnologie che oggi noi abbiamo sulle vetture Ford al pari di una Fiesta o una B-Max. Ovviamente tra le tecnologie che Ford offre sul Turneo Curier non poteva mancare il SYNC e il SYNC vuol dire infotainment, vuol dire voice control e quindi vuol dire sicurezza ancora una volta perché è il sistema che consente di attivare molte delle funzioni della vettura con i comandi vocali. Il SYNC vuol dire però anche come dicevamo sicurezza perché aiuta a non distogliere gli occhi ma è anche emergency assistance e cioè incorpora quel sistema che in caso di malagurato incidente grave chiama in automatico senza bisogno che lo faccia il conducente che magari si trova in difficoltà dopo l'incidente, la centrale operativa di emergenza comunica la posizione della vettura, dialoga in viva voce con gli occupanti e quindi consente intanto di individuare la vettura in tempi molto brevi e poi di prestare anche il primo soccorso vocale agli occupanti. Il SYNC sul torneo Curier arriverà anche con l'Uplink che è quell'upgrade del SYNC che abbiamo lanciato con l'Ecosport e che consente di attivare le smart anch'esse con i comandi vocali. Il lancio previsto a giugno come dicevamo lo prevede in due versioni, la versione Plus e la versione Titanium. La versione Plus arriverà con tre motorizzazioni, la 1000 EcoBoost 3 cilindri a 100 cavalli e due diesel, un 1.5 da 75 cavalli e un 1.6 da 90 cavalli con il prezzo che partirà da 15.500 euro per la 1.100 cavalli EcoBoost 3 cilindri e che noi offriremo con il SYNC pack e il clima a 13.950 euro. La seconda serie che lanciamo, con cui offriamo questo prodotto è quella Titanium. La Titanium arriverà in fase di lancio con la motorizzazione 1.6 90 cavalli TPCI e che di listino costa 19.250 ma che noi offriremo con il SYNC Nav che comprende quindi il navigatore e il clima automatico a 17.700 euro.